Penso che Mariana Boschia abbia chiarito le circostanze che erano emerse nell'audizione del Presidente della Consob. Non mi permetto di dare giudizi sulla Commissione perché per definizione il Governo rispetta le scelte e le decisioni del Parlamento. Mi auguro che le prossime settimane non siano dominate da bisticci sulle banche perché sinceramente non mi sembra l'aspettativa maggiore dei nostri concittadini.